Lasagne al salmone e ricotta Lasagne al salmone e ricotta, una ricetta veloce e gustosa, perfetta per una cena di febbraio. Preparare queste lasagne è molto semplice, scopriamo i passaggi. Gli ingredienti necessari sono Lasagne fresche, salmone affumicato, ricotta, grana padano, pan grattato, moglio extravergine di oliva, sale, burro. Procediamo con la preparazione. Prendere una teglia da forno, imburrarla e cosparcerla con il pan grattato. Tagliare il salmone affumicato a listarelle sottili. In una ciotola mescolare la ricotta con un pizzico di sale e una grattatina di noce moscata. Disporre sul fondo della teglia uno strato di lasagne. Distribuire sulla lasagne uno strato di ricotta e uno di salmone. Cosparcere con abbondante grana padano. Ripetere gli strati di lasagne, ricotta e salmone. Terminare con uno strato di lasagne e cospargere con abbondante grana padano. Aggiungere un filo d'olio extravergine di oliva e una noce di burro. Cuocere le lasagne in forno preriscaldato a 180 gradi centigradi per 30 minuti circa. Una volta cotte, servire le lasagne al salmone e ricotta ancora calde. Le lasagne al salmone e ricotta sono pronte. Una ricetta golosa e semplice da preparare, perfetta per una cena in famiglia o una cena tra amici. Su interma e ricotta sono progettificati. Pagliare un filo d'olio extravergine di oliva. Cuocere le lasagne sigla.